Partita incredibile, 1-0 del primo tempo immeritato, secondo tempo i ragazzi hanno dato veramente spettacolo. Contro una squadra fortissima, attrezzatissima, nei singoli e nei reparti. Tanti complimenti ai ragazzi, abbiamo avuto la possibilità di fare ancora oggi giocare i nostri giovani, che hanno fatto benissimo e quindi tutto bene, continuiamo così.